È normale che quando non giochi bene, quando perdi, il tifoso ci resta male. Cosa posso dire? Nei momenti difficili stateci ancora di più vicini. Perché questo è un momento veramente particolare. Avete visto che pronti via, 1-0. Riusciamo a pareggiare, e sono sincero, non so come, però pareggiamo. Secondo tempo, pronti via, secondo gol. Io credo che anche una squadra in grande condizione avrebbe fatto fatica dopo due botte così. Figuriamoci noi che non stiamo in salute. Per cui dobbiamo essere calmi, lavorare e rimetterci al più presto. Dopo Ferrara, dopo oggi, se vedessi una situazione analogo a oggi, penseresti di nuovo a dimetterti? No, perché sono venuto sapendo cosa c'era in ballo. Per cui adesso, in questo momento, io devo fare quadrato con i giocatori, con la società, con i tifosi. In questo momento è difficile cercare di salvare il salvabile. Non riusciamo ad allenarci, perché tra infortuni, tra chi è partito per la nazionale, una cosa e un'altra, io ho allenato sette giocatori. Per cui io posso soltanto ringraziare quei ragazzi che oggi, pur avendo dei problemi come De Rossi, come Manolas, come Kolarov e anche Zeko, hanno voluto giocare. Questo significa che ci tengono, che stanno soffrendo interiormente, che vorrebbero reagire. Però il Napoli ha meritato niente da eccepire. Grande squadra, tutti si muovono, stanno attraversando un momento di forma eccellente. Per cui complimenti al Napoli.